L'emergenza dovrebbe essere agli sgoccioli, dovrebbe, perché il condizionale, visto il recente passato, obbliga alla cautela. Una città senza acqua, fasi alterne da ormai oltre una decina di giorni, d'altronde teme che si possa, un po' come avviene nel gioco dell'oca, tornare nuovamente al punto di partenza. E a Foggia è già accaduto dopo il riparo della prima rottura e si è ripetuto dopo il ripristino della seconda condotta danneggiata che ha lasciato nuovamente i foggiani all'asciutto e a secco. Adesso che il carter a cui si è pensato di fare ricorso è finalmente in arrivo, il problema dovrebbe essere risolto in via definitiva. Nel frattempo sono ancora tanti quelli che, abitando ai piani alti e in assenza di autoclave, lamentano ancora disagi. I lavori intanto proseguono e da Acquedotto Pugliese fanno sapere che entro la nottata installeranno un carter metallico realizzato su misura e al termine della lavorazione si provvederà alla graduale riapertura dell'erogazione idrica dopo i necessari lavaggi. Attualmente l'alimentazione è assicurata dai bypass e il regolare ripristino dell'erogazione idropotabile è previsto nella giornata di sabato. Nel frattempo prosegue la distribuzione con autobotti nei vari punti della città.